Forum Cattolici, un manifesto per la buona politica. Ticket sanitari, CISL annuncia vertenze regionali. Indesit intesa integrativo per oltre 5.000 dipendenti. Un saluto a tutti, bentornati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Un manifesto per la buona politica e per il bene comune elaborato dal Forum delle Persone e delle Associazioni di Ispirazione Cattolica nel mondo del lavoro, promosso da CISL, MCL, ACLI, Conf Cooperative, Conf Artigianato, Compagnia delle Opere e Col Diretti. Il documento è stato presentato stamattina a Roma nel corso di una conferenza stampa. Era per noi, Giampiero Guadagni lì ha realizzato questo servizio. La bussola per un progetto riformatore della società italiana. Progetto rivolto a tutti e ancorato alla dottrina sociale della Chiesa. È il manifesto per la buona politica e per il bene comune, presentato questa mattina a Roma dal Forum delle Persone e delle Associazioni di Ispirazione Cattolica nel mondo del lavoro. Parole chiave del manifesto, sussidiarità e partecipazione, come ci spiega il segretario generale della CISL, Raffaele Bonagni. Quando si dice da parte nostra mettere al centro la persona, significa che è la persona stessa che deve impegnarsi con l'aiuto delle proprie associazioni, dà vita in questo modo alla pre-politica e questo aiuta anche i politici a fare bene. Diversamente il criterio di affidare solo a loro, senza alcun legame con la realtà concreta della soluzione dei problemi che avviene nel basso, crea solamente una politica che ricorre al popolismo molto facilmente, che è quello che vediamo. Quindi il nostro proposito, più che fare partiti, è ricreare le concisioni per la responsabilità di ciascuno, condizione che crea pre-politica, di cui si avvantaggeranno a quel punto coloro che sono impegnati in politica, almeno coloro che hanno buona volontà. Insomma, l'iniziativa del Forum non intende, come ipotizzato da qualcuno, costruire un partito nuovo, ma suscitare un nuovo modo di responsabilità collettiva, anche avanzando, proposte concrete. Sentiamo i presidenti delle associazioni promotrici del Forum. Ma io credo che le organizzazioni che sono qui oggi dicano da sole, ecco, con le sole sigle, che il compito che si sta affrontando è un altro. Sono organizzazioni che non hanno bisogno di costruire un partito per fare politica, per intervenire nelle grandi vicende del Paese. Certamente ci teniamo a dare un segnale anche politico, ma questo non necessariamente si tramuta in un partito. Crediamo che la classe politica prenda delle iniziative decisive per il Paese e una di queste è la riforma della legge elettorale, che servirebbe a dare al Paese e alla classe politica un ancoraggio maggiore ai problemi che il Paese, le imprese, i cittadini e le famiglie vivono in questo momento. Quali sono allora il senso e l'obiettivo del manifesto? Sentiamo ancora i leader del Forum. Ecco, noi non ci rassegniamo a vivere in un Paese in declino, non ci rassegniamo a vivere in un Paese che non dà prospettive ai giovani e quindi vogliamo affermare un blocco importante che va dalla rappresentanza del lavoro dipendente, a quella delle piccole e medie imprese, ai patronati, che in un momento così difficile della storia, sia economica che sociale, del Paese, cerca di trovare le energie migliori per poter modificare un meccanismo di crescita che riteniamo non sia soddisfacente per il Paese. Noi abbiamo bisogno che imprese, sindacati, scuole, famiglie che abbiano un obiettivo vero, sostenibile e che tutte le forze che sono presenti in una società civile possono mettersi in moto per un positivo, non per evitare un problema ma per costruire un futuro. Ritengo che in questi momenti soprattutto i corpi intermedi, le forze sociali, chi è diffuso e presente sul territorio, chi rappresenta la gente vera, quella che lavora, debba assumersi qualche responsabilità. Peraltro è una forma di sussidiarietà e la sussidiarietà è un elemento che ha sempre caratterizzato la vita anche della nostra organizzazione. Credo che sia importante che sette grandi organizzazioni superano autoreferenzialità e anche specificità personali per scendere in campo rispondendo anche all'appello del Santo Padre. E ora torniamo a parlare della manovra e dei suoi effetti. La CISL è infatti annunciato che si mobiliterà in tutte le regioni d'Italia per chiedere tavoli di verifica immediati con i presidenti delle regioni per individuare risorse alternative a partire dal taglio dei costi della politica all'introduzione dei ticket. L'annuncio è del segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, che proprio oggi ha riunito la segreteria confederale. Congelare il ticket sanitario previsto dalla manovra economica come hanno deciso di fare alcune regioni è sicuramente una buona scelta, ha detto Bonanni, per il quale c'è bisogno di esempi concreti di cambiamento in tutti gli ambiti della vita politica ed istituzionale. E apriamo il capitolo vertenze. È infatti ancora in corso a Roma il tavolo tra Aran e sindacati sulle assunzioni dei precari della scuola. Complessivamente si parla di circa 65.000 nuove possibili assunzioni. Noi abbiamo sentito il segretario generale della CISL Scuola, Francesco Scrima, stamattina proprio all'ingresso dell'Aran. Oggi dobbiamo andare a discutere all'area nella proposta del Governo relativa all'invarianza di spesa così come è previsto nello stesso decreto. riteniamo che ci siano le migliori condizioni per poter chiudere tempestivamente il confronto e attivare tutte le procedure perché poi dovrebbe essere registrato la Corte dei Conti e ricevere anche il consenso del Consiglio dei Ministri perché già nel mese di agosto si possono fare le assunzioni del personale. Una risposta tanto attesa da parte del personale precario della scuola ma è una risposta che fa bene anche alla stessa scuola perché garantisce l'utilizzo stabile di risorse umane e di professionalità per assicurare la continuità educativa e didattica. E' accordo già raggiunto invece alla Indesit dove dopo 18 ore di trattativa è stata raggiunta l'intesa tra FIM, FIOM e WILM e la direzione generale del gruppo per il rinnovo della parte economica dell'integrativo. L'intesa interessa oltre 5.000 lavoratori ed è importante per due ragioni. La prima è perché interessa un settore particolarmente in crisi l'altra perché è un accordo che è stato firmato unitariamente da tutti e tre i sindacati dei metalmeccanici. Su questo abbiamo raccolto il commento di Anna Trovò, segretario nazionale della FIM CISL. La FIM CISL oggi esprime una grande soddisfazione per le ipotesi di accordo sottoscritta stamattina con il gruppo Indesit. Si tratta di un accordo che investe su relazioni sindacali partecipative, che porta le organizzazioni sindacali a condividere obiettivi di miglioramento della produttività aziendale, della qualità della produzione, condividere obiettivi di redditività alle quali legare erogazioni salariali. Proprio nell'idea che il contributo del lavoro per determinare risultati positivi per l'azienda sia importante e che questo contributo debba ricevere un riconoscimento economico per quanto riguarda i lavoratori. Per noi è un risultato soddisfacente perché afferma i contenuti e i principi della FIM e della CISL in altri casi non condivisi tra le organizzazioni sindacali e invece in questo caso sottoscritti attraverso una condivisione, un accordo unitario di tutte e tre le organizzazioni confederali dei metalmeccanici. Ed è delle ultime ore l'accordo raggiunto anche alla Campari per l'integrativo, mentre resta incerta ancora l'avvertenza che riguarda la crisi del teatro dell'Opera di Roma. Stamattina la conferenza stampa di CGL CISL e Wille in vista dell'incontro di giovedì prossimo con il sindaco Alemanno. Si dicono pronti i sindacati anche allo sciopero. Con quali motivazioni lo hanno spiegato ai nostri microfoni Elisabetta Falcone della Segreteria Provinciale della CISL Capitolina e Paolo Terrinoni, segretario generale della Fistel CISL di Roma e Lazio. La legge 100 che ha fatto il ministro Bondi praticamente ha relegato il teatro dell'Opera di Roma a un teatro, se vogliamo catalogarlo, di provincia, in quanto le eccellenze sono state individuate nella Scala di Milano e nell'Accademia di Santa Cecilia di Roma. Chiaramente non essendo un teatro di eccellenza non può avere un contratto proprio e poi in una situazione di crisi, al di là che abbiamo recuperato il FUS, il teatro dell'Opera di Roma da 250 rappresentazioni ormai siamo sulle 100-150, quindi non si sta lavorando più, non si fa più produzione. L'obiettivo è che i bilanci vengano coperti proprio perché se per tre anni di seguito questi bilanci vengono in positivo, in attivo noi possiamo in qualche modo rivendicare l'eccellenza anche per il teatro di Roma. Il teatro dell'Opera è un elemento che qualifica la città di Roma, in un momento in cui noi diventiamo Roma capitale e non si possono abbattere questo tipo di celebrità e di eccellenze. E chiudiamo con la notizia della visita ai sindacati italiani di Shaher Saeed, segretario generale del sindacato palestinese che oggi ha incontrato il numero uno della CISL Bonanni. Obiettivo, la firma di una petizione unitaria per la convivenza dei popoli israeliano e palestinese. Nelle immagini l'intervista realizzata da Manlio Masucci stamattina a Labor TV. Penso che, prima di tutto, abbiamo questa incontrazione per cui abbiamo spiegato perché abbiamo bisogno di supporto per il Stato palestinese. Perché questa è l'occupazione israeliana, l'ultima occupazione del mondo. Quindi nell'incontro gli ho spiegato le motivazioni di questa iniziativa perché la Palestina è l'unico paese che è ancora occupato al mondo. E speriamo che i lavoratori italiani siano iniziati con questa iniziativa non solo in Italia ma anche in Europa. E noi speriamo che i lavoratori italiani possano sostenere questa iniziativa e non solo gli italiani ma anche i lavoratori europei. E credo che con questa signatura, con il segretario generale della CISL questo ci darà più solidarietà e più supporto. E credo che la firma del segretario generale della CISL ci darà un grande sostegno. E' bene che tutti i sindacati europei e anche liberi del Medio Oriente partecipino alla costruzione di questa catena che deve stringersi attorno ai due popoli che devono vivere insieme ma in autonomia distinti. Attraverso le loro istituzioni statuali che riterranno più opportuno. Io spero attraverso una democrazia sostenuta fortemente dall'attività libera e indipendente dei lavoratori stessi. Bene, era questa la nostra ultima notizia. Io vi rimando come sempre per tutti gli aggiornamenti al sito di conquistadelavoro.it Se volete scriverci ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica labortv-cisl.it L'appuntamento con una nuova edizione del nostro telegiornale e invece per domani sempre alle 18. A tutti una buona serata. Noi CISL Richiedi la carta CISL e vai nelle migliaia di esercizi convenzionati. Su ogni acquisto accumulerai punti con cui ottenere sconti e premi in buona spesa. Ecco come funziona. Tu fai i tuoi acquisti in contanti o con Bancomat o carta di credito. Al momento di pagare consegni la carta CISL sulla quale vengono automaticamente accreditati i punti corrispondenti alla spesa. Vuoi accumulare punti nei tuoi negozi preferiti? Segnalaceli compilando il modulo che trovi sul sito noicisl.it Ecco alcuni buoni motivi per aderire. Solo se hai carta CISL accumuli punti in migliaia di esercizi in tutta Italia ottieni sconti e premi importanti puoi utilizzare i tuoi premi come buoni pasto o per fare shopping. Per maggiori informazioni visita il sito noicisl.it e tornacui.it